La consulta giovani del Consiglio regionale ha premiato la creatività giovanile e il risultato del concorso Arte e Cola, ecologia nel tuo spazio, realizzato in collaborazione con l'Accademia Albertina di Belle Arti per opere e manufatti su tematiche ambientali, rivolto agli studenti dell'Accademia. I 20 lavori, 10 sculture, 2 pitture, 2 installazioni, 2 opere grafiche, 4 tra video e proiezioni fotografiche sono stati esposti nel porticato d'onore di Palazzo Lascaris. Come consulta giovani abbiamo organizzato questo concorso di idee che si chiama Arteco e è stata una grandissima iniziativa anche perché ho coinvolto in primis tantissimi ragazzi in un tema come quello della cultura. In un momento come questo, di congiuntura economica, vedere che i ragazzi si avvicinano al mondo della cultura con questi progetti penso che sia veramente già un passo avanti per l'intero Consiglio regionale e per l'intera regione, per tutti i piemontesi. Il concept, l'argomento del bando era veramente molto interessante, cioè l'ecologia oggi è uno dei temi fondamentali per il nostro pianeta e i nostri studenti, che non sono solo studenti ma sono anche artisti, hanno elaborato 20 opere e posso dire tutte di altissimo livello. Purtroppo non le abbiamo potute premiare tutte, ma tutte sono premiate perché saranno in esposizione fino al 24 di novembre qui a Palazzo Lascaris, ma probabilmente anche si organizzerà una mostra in un secondo tempo.